Il neoplasticismo conclude il lungo percorso artistico di Piet Mondrian, ma per capire tutta la sua arte, dagli esordi, dall'arte figurativa olandese, fino agli anni 30, qui vediamo proprio una delle sue ultime opere d'arte, dovrete venire al MUDEC, alla mostra su Piet Mondrian, fino al 27 marzo 2022. Noi di Webham TV vi aspettiamo, ciao!